Questo è il Reset. Quello che è? Quello è Alberto. Questo che è? Un secondo, lui. Questo che è? Quest'uomo. Quest'uomo che è? Lui è Tony Butt. Lui è tutto fuori. 50 euro. Questa è la macchina di questo pover'uomo. Capite amore? Questa è la macchina di questo pover'uomo. Levati un po' perché io devo analizzare la cosa. È su cosa? Sì. Bene. 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 Ma che tipo? Togli tu, la mia vossa è una macchina di anyone. La prima volta che spiego, la prima volta che spiego, c'era in un campo. C'era anche la prima volta che spiego. La prima volta che spiego... eeeh eeeh ok ma ti piace ma ti piace ti piace sono un multimillonario non mi raccomando ma questo è mio padre ma non lo so ma non lo so lo so lo so body paint grazie grazie body paint alberto casa del alberto sta struppiato Cristiano grazie grazie vamo buona musica grazie ciao mi piace grazie ciao 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 ha riuscito ah no non puoi andare marrone Helena Ed Alberto, io mi dicevo che era il suo amico No, io mi dicevo che tu non chierai parlare con lui Che c'è mano? Maronna mia Che c'è il peggio di Napoli No, ma stai capendo che mi accende in merda Vabbè, questo non è stato un po' di questione quando è cominciata Questa è un po' di fai 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 No, ma all'inizio Venga, venga Venga, venga Si No, 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 no Per favore, una chimica Io non lo sapevo, io non mi metto la risposta La risposta La risposta